Ma cosa ha detto il processo? Non è neanche venuta. Lo hai raccontato a tuo padre, al tuo fratello? No. L'hai raccontato solo a me? Sì. No. Perché? Qui, all'aperto, così. Ma non c'è nessuno? Io e Dani da piccola facevamo finto di essere due principesse che abitavano in quel castello laggiù. E ci sei mai entrata? No. Che ora sono? Boh. Oddio, già è mezzogiorno. Torniamo a scuola. Se mia madre non mi vede mi uccide. Aspettiamo ancora un po', no? Dai, alzati! E cosa c'è da dire di più? FM 107.3 Radio Chaos All you need is love. e love. Ciao! Grazie a tutti.